Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso di Nicola Ciraci e lo riammette alla sua poltrona di Presidente del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica. Decade quindi definitivamente la delibera di destituzione dall'incarico con la quale il Consiglio Comunale del 28 agosto 2013 lo sostituiva con Giovanni Argentiero. Secondo Ciraci la revoca non sarebbe stata adeguatamente motivata e soprattutto che le contestazioni che gli venivano mosse erano imparziali e una conseguenza del cambio di maggioranza politica. La sentenza del Tar ha dichiarato che la figura del Presidente rimesse un carattere istituzionale e che la revoca può essere causata solo da un cattivo esercizio di tale funzione che lo mette nelle condizioni di mantenere neutralità tra le parti che intervengono nel Consiglio. Di conseguenza un Presidente non può essere rimosso per questioni legate solo ed esclusivamente alla fiducia politica. Questo dimostrerebbe che la revoca dell'incarico non sia stata legittima e Ciraci rientra quindi di diritto al suo posto nell'aula consigliare. Il Tar ha anche aggiunto che sulla contestazione di essere componente della terza commissione e aver determinato le condizioni perché non si raggiungesse il numero legale va preso in considerazione il fatto che se da un lato nessuna legge vieta la partecipazione del Presidente dalle commissioni dall'altro la sua mancata partecipazione era stata giustificata dai numerosi impegni istituzionali. Ciraci ovviamente appagato della risoluzione della questione potrebbe ritornare sull'argomento lunedì prossimo con la convocazione di una conferenza stampa. Intanto piena soddisfazione per la decisione del Tar è stata espressa dal segretario provinciale del PDL Luigi Vitali che attraverso una nota stampa fa sapere e la dimostrazione di come il nostro esponente abbia esercitato il suo ruolo esclusivamente nel rispetto della istituzione che rappresentava e come, prosegue Vitali, molte volte il nuovo che avanza utilizzi metodi e liturgie della più becera politica.